Quindi questa zona qua, dal vostro studio, sarebbe sommersa dall'acqua. Di che studio stiamo parlando? Di che quantità? Insomma, ci può spiegare un po' quello che è l'allarme? Insomma, lo studio che avete fatto, che deve essere preso come base per poi tanti altri interventi, però lo studio che cos'è che dice? Sì, abbiamo fatto uno studio che praticamente analizza il rischio idraulico dei corsi d'acqua che scendono dalla collina di Bologna e passano dentro la città. Questi corsi d'acqua, quando entrano in città, vengono tombati, ovvero entrano dentro una condotta di una sezione ben definita che non può variare. Quindi qui c'è, scusami per farmi capire, qua sotto qua c'è il ravone? Qui sotto, in questa zona, che è una zona come si vede di fondo valle, passa il ravone, passa sotto la scuola e prosegue poi per via Felice Battaglia per passare sotto il portico di San Luca, passa attraverso il quartiere Porto e poi sbuca nel reno. Quindi attraversa una fetta cospicua di città, l'attraversa dentro questa conduttura. La zona più problematica però è questa, con lo studio che avete fatto. La zona più problematica è questa, nel senso che poco più a monte è presente il punto in cui il torrente entra dentro la conduttura e qual è il rischio? Il rischio è che la conduttura non sia sufficiente a smaltire la quantità d'acqua che il torrente porta in caso di eventi eccezionali. Quindi il nostro studio cosa è stato? È stato un ripercorrere innanzitutto gli eventi storici, cioè gli eventi del passato, andare a cercare se ci sono stati alluvioni, ci sono state, soprattutto nel ravone, nell'aposa, ma anche nel meloncello. Abbiamo quindi costruito uno scenario di evento estremo che non è un evento, diciamo, impossibile, ma questo scenario è basato su quello che è successo negli ultimi anni in Emilia Romagna, è basato sulle piogge osservate effettivamente a Bologna negli ultimi cento anni. Questo scenario consiste in una pioggia di 70 mm in due ore. 70 mm in due ore per Bologna sono molti, quindi non è una cosa che accade tutti i giorni però ultimamente questo valore è stato ampiamente superato da, per esempio, nel temporale di Rimini che c'è stato nel 2013 dove ha scaricato 123 mm in un'ora oppure anche recentemente durante l'alluvione del Sant'Erno e durante l'alluvione di Parma in alcune stazioni sono state registrate piogge di anche 80 mm in un'ora. Quindi è un evento possibile. Si spera chiaramente che non accada, però noi dobbiamo essere preparati anche a questa eventualità. Che cosa proponete però? Perché oltre alla parse, potremmo definirla a destra, insomma, in realtà oltre all'allarme che voi lanciate c'è anche una proposta. Qual è? Sì, la proposta è chiaramente quella di avere la maggior cura possibile del territorio, della regimazione delle acque, non solo sul terreno pubblico ma anche sul terreno privato, dei versanti che sono molto franosi in questa zona. Quindi sicuramente c'è un primo elemento di informazione e prevenzione e cura anche del corso d'acqua. C'è un altro importantissimo elemento che è quello dell'informazione della popolazione e rendergli, come dire, mettere a conoscenza la popolazione che in effetti c'è un rischio presente in quest'area. Questo non per spaventare le persone perché non è certo questo l'intento, non è quello l'intento di spaventare nessuno ma è quello di mettere a conoscenza le persone per poi sapere come agire in caso, nel malagurato caso si dovesse verificare questo evento. Questa è tutta la parte propedeutica di informazione e di conoscenza che è importantissima. Poi c'è anche una parte tecnica, è possibile per esempio con la tecnica moderna, con le moderne strumentazioni, mettere in piedi dei sistemi di allerta rapida. Quindi al superamento del livello del torrente oppure al superamento di una certa pioggia si possono comandare per esempio delle sirene, si possono comandare dei semafori, si può quindi mandare un'allerta veloce alla popolazione che però deve già sapere come comportarsi in caso di ricezione di questa allerta. È un po' quando si dice, di solito se ne parla sempre noi giornalisti dopo le alluvioni e c'è per qualche ora, a volte qualche giorno, dopo l'alluvione, dopo l'evento drammatico si parla della messa in sicurezza del territorio. Questo può essere un esempio di messa in sicurezza del territorio? Certo, le cose che ci siamo detti fanno parte della messa in sicurezza del territorio, si comincia appunto dalla prevenzione e dall'informazione per arrivare poi agli interventi tecnici e alla gestione dell'emergenza. Per esempio la questione dell'allarme riguarda la gestione dell'emergenza. Si possono fare interventi anche per ridurre il rischio che si verifichi, per esempio, sarebbe auspicabile allargare la condotta, ma sono lavori molto impattanti perché la condotta passa anche sotto delle case, quindi è difficile che si riesca a intervenire in questo senso. E quindi si valuta quali interventi sono possibili con le risorse attuali.